Grazie, buongiorno a tutti, oggi è sabato 19 ottobre, sono circa le 10 e mezzo, 11 e 19, io mi sono alzata intorno alle 9 e mezzo, ho fatto colazione molto veloce, ho bevuto semplicemente il mio cortato, infatti vedete qui sono in cucina, ovviamente devo fare soltanto le tazze della colazione, di Giampi, di Claudia e la mia, ho bevuto il mio solito cortato, quello di Nescafè, con il latte di soia alla vaniglia, che ho preso in sconto a un euro all'emd l'altro giorno, e da un po' che non faccio video, è vero, però ovviamente non ho fatto nulla di particolare da riprendere, non aveva senso fare cose stupide, cose inutili, il solito di svuota la spesa, mi hanno un pochettino annoiato questo tipo di video, devo dire la verità, infatti non li sto neanche più seguendo dalle ragazze che seguo, ma non per qualcosa, perché comunque alla fine compriamo sempre tutte le stesse cose, uguali, è tutto ripetitivo, facciamo vedere le stesse cose, Lidl e questo e questo, succo succo, da una parte è meglio che io, ho preferito oggi ad esempio fare un video, siccome devo fare qualche piccola pulizia particolare, e comunque ho dei prodotti nuovi che ho comprato da un po' di tempo, che ho utilizzato già da un po', e quindi preferisco farvi una recensione vera e sincera di un prodotto, anziché dirvi ho comprato questo, ho comprato quello, non ha senso, quindi vanno le ciance, passiamo a spiegarvi di quali prodotti sto parlando, Allora intanto ho riuscito, dopo tanto tempo, il mio sgrassatore vigore, questo qui al limone, questo qui della linea più pulito, vedete, è a più di metà, però mi serve per, lo devo allungare con uno spruzzino, e fare il mio sgrassatore, faccio quello, un po', un misurino, aspettate, io ho il misurino proprio il su, eccolo qua, tutto fatto di calcare, vabbè, e questo qui è proprio il misurino, questo qui del, di vigore, che mi hanno dato in omaggio quando ho fatto l'ordine linea più pulito, e ora non ricordo quanti ne metto, credo, se non sbaglio 50 ml, che sarebbe qui, qui non metto a fuoco ovviamente, eccolo qua, 50 ml di questo, e il restante lo allungo tutto con acqua fredda, ovviamente non mi metto a scegherare, perché sennò fa una schiuma enorme, anche perché questo è molto schiumoso, fa moltissima schiuma, quindi per risciacquarlo è anche un po' seccante, però devo dire che come sgrassatore è uno dei migliori che abbiamo mai provato, non c'è niente da fare, costa circa sulle 8-9 euro, però devo dire la verità, ne vale tutte. Parliamo di altri prodotti, allora oggi voglio fare, voglio andare a pulire con la pasta bianca che vi ho detto che avevo comprato, forse ve l'avevo detto in qualche video, ora non ricordo, questa pasta bianca l'ho comprata, è tedesca, serve per sgrassare, lucidare e proteggere, l'ho comprata alla fiera di Messina, 10 euro, ed è un barattolo da mezzo chilo, mi hanno dato garanzia due anni, quindi all'incirca dovrebbe durare circa due anni, serve per varie cose, ad esempio per lucidare l'acciaio, Claudietta amore, c'è Claudia qua ovviamente, per lucidare l'acciaio, ad esempio molte lo utilizzano per pulire i muri, se i bambini scrivono con la penna, se c'è qualche segnetto, roba del genere, poi puliscono ad esempio i vetri della doccia, io lo utilizzerò sempre e soltanto comunque per l'acciaio, un tempo fa l'avevo pulito qui, ma adesso oggi voglio andare a pulire i rubinetti del bagno, perché ovviamente utilizzando molto, soprattutto il lavandino, mi sono accorta che comunque è molto macchiato, e questo ha anche tra le sue qualità, il fatto che fa scivolare bene l'acqua, per almeno una settimana, 10 giorni dopo che è stato utilizzato, quindi voglio andare a lucidare per bene l'acciaio, cioè i rubinetti del bagno, perché sono veramente pietosi, questo si presenta così praticamente, ha la sua spugnetta, che è questa, e la pasta bianca semplice, questa qui sembra indurita, poi dopo si ammorbidisce, questa qui si bagna, si gira tutta, si spreme un pochino e poi si va a lavorare, poi dopo viene, si fa a gire un minuto, due minuti, e poi si va a risciacquare bene con una pezzetta da asciugare, soprattutto con un panno microfibra, così almeno viene bello lucido, e questo è quello che farò oggi soprattutto, poi un altro prodotto nuovo che avevo comprato in sconto due mesi fa circa, forse 1,69 euro, 1,59 euro, l'avevo visto in qualche video, ora non ricordo di chi, e ho detto, ma io amo il Cif, soprattutto sgrassatore, ma i petri, perché i petri mi fa schifo, ma gli sgrassatori di solito non sono buoni, anche quelli antichi al caro, prendiamo questo qui con oli di arancia e mandarino, devo dire che è abbastanza buono, gli darei un 7,5, perché comunque ha un odore particolare, un po' d'arancia, di mandarino, che non è che è sgradevole, però a me dà un po' poco 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 fastidio, però è molto buono, e dice che ha 100% rimozione del grasso incrostatore, è vero, comunque lucida anche bene il piano cottura, qua vedete tutto lo zucchero del caffè, quando fai il caffè Giampi, straggio degli innocenti, va bene. Un altro prodotto, voi sapete che io adoro Quasar vetri, cioè ormai ne ho provati tantissimi, ma l'unico che mi fa i vetri per bene, come voglio io, vetri specchi e Quasar, l'altra volta ero da Bernava, il solito negozio in cui io compro i detersivi che ormai conoscerete, grazie a me, per chi non conosce, per chi non è di Messina, lo conosce, grazie a me, per chi cerca qualche cosa da Bernava, mi dice, ma da Bernava lo trovo? Sì, lo trovi. C'era in sconto, forse 1,59 euro, ora non ricordo, 1,79 euro, questo Quasar cucina, per superfici moderne, ma in realtà va bene per tutto. Ragazze, allora, che vi devo dire? È a metà, e lo uso, perché poi lo uso, cioè alterno questo, una volta questo, quindi non li, perché voglio, appunto, perché voglio provarli e testarli, in modo che quando poi mi finiranno, io so quale, qual è quello che mi ha dato più soddisfazione, quindi quale è quello che andrò a ricomprare. Io penso che il 98%, ecco al momento il 98% ricomprerei questo, Quasar cucina, perché dice che deterge ed igienizza le superfici moderne di casa, senza lasciare tracci aloni, ragazze, che vi devo dire? A me piace tantissimo, lucida bene, poi ha un profumo che mi piace molto, e che è anche una cosa che per me è importante, perché se mi danno fastidio, poi mi fa venire la tosse, mi infastidiscono, quindi non, poi non lo riesco ad utilizzare. Questo è addirittura, vedete? Ha il marchietto questo qui, idonio per HACCP, quindi è igienizzante. Uh, stava per cadere. E questo proprio dice l'ode più più più. Poi, anzi, vi volevo dire, un prodotto che mi fa stare male, però io non lo so se è una cosa che succede soltanto a me o anche a voi, per chi utilizza KH7, cioè vi ricordate che io ne ho parlato spesso, infatti lo uso sempre come anticalcare, uno dei migliori, assolutamente, però quando lo utilizzo mi viene la tosse, mi bruciano gli occhi, ora sono allergica io a questo prodotto, non lo so, però mi fa stare un po' male. Infatti per adesso non lo so, non è quasi pieno, perché non lo sto utilizzando, mi fa stare proprio male. Lo utilizzo proprio centellinato, e proprio non lo so. Per chi l'ha utilizzato, magari mi scrivete sotto se è successo anche a voi, se è una cosa mia, magari io sono intollerante a qualcosa che c'è qua dentro, o che mi fa stare proprio male, sono allergica, boh, non so che cosa pensare. Ma quando la ucci la devi spruzzare lontano? No, amore, io lo spruzzo qui nel lavandino, lo faccio lì, vedi, faccio il piano dove ci sono adesso le tazze, faccio lì, e poi certe volte i rubinetti della guida, mi cominciano a lacrimare gli occhi, mi viene la tosse, boh, non lo so, comunque era una piccola parentesi, parlando appunto di profumi e di prodotti che, quello lo uso da più di un anno e mezzo, di un anno, però ogni volta che lo utilizzo, o mi sono resa conto che più volte mi fa star male, ma comunque. Eppure che stanno lì. Eppure sì, mi pizzica da morire il naso, amore, non so perché, boh. Allora, un altro prodotto che ho comprato l'altra volta, perché la signorina Claudia, perché la colpevole è lei, e non ridere, lei sta ridendo. Ridi, ridi, che mamma ha fatto gli gnocchi, sì. Ha macchiato tutto il divano nuovo. Come sapete, il divano ce l'ho da circa un anno, lo abbiamo comprato a luglio dell'anno scorso, quindi un anno e qualche mese. Divano, noi avevamo quello in ecopelle, di centro convenienza, che ovviamente, sempre Claudia, quando era piccolina con le sue ditine, monelline, faceva così, l'ha spellato tutto, quindi, finalmente l'anno scorso, dopo quasi cinque anni e mezzo, siamo riusciti a comprarne uno nuovo. L'abbiamo preso, ovviamente, la parte di sotto in ecopelle, e la parte di sopra, tutto in tessuto, il solito che avete visto spesso nei video, quando io, adesso casomai ve lo faccio vedere. Comunque l'ho ammacchiato nella parte dell'ascese long, ci sono delle macchie allucinanti, ho provato di tutto, gli avevo messo sgrassatore, gli avevo messo, avevo un altro prodotto, sempre per i tappeti, aspettate che ora ve lo faccio vedere, che non ricordo però se ve lo avevo fatto vedere, nello svuoto alla spesa, quando lo avevo comprato. Allora, avevo comprato questo, sì, forse sì. Questo l'avevo preso da Bernava, pulisvelte, pulisci i tappeti, mobili imbottiti e boquette. Con questo, niente. Qualche giorno dopo sono rientrata da Bernava, ho trovato quest'altro prodotto, che avevo visto in vari video, ho detto, ma beh, lo compro, 5 euro, cioè, scherzo se non sbaglio, 5 euro e 99, quindi 6 euro. Ragazze, 6 euro, rendiamoci conto, per un prodotto così, di pochissimi ml, 300 ml, qui vi promette di pulire, niente, le macchie dal mio divano, non se ne sono andate, va bene, mi faccio la croce, ci metto il copritivano, è che io, quando vengono gli ospiti, non amerei lasciare il copritivano, ma purtroppo dovrò farlo, perché ci sono delle macchie brutte brutte, che non vi vorrei far vedere, che ora non so neanche cos'è, se cioccolato, non ve lo so dire cosa siano, Claudia non me l'ha saputo spiegare, quindi io sono molto, non me la ricordo, ecco, non so ricorda neanche lei, sono molto arrabbiata, perché comunque il divano è nuovo, e non è che adesso a breve ne compreremo un altro, perché comunque un divano ogni anno, non si può comprare, anche perché abbiamo in vista, altre spese importanti, tra cui, cosa dobbiamo comprare adesso, letto a castello, per buttarci fuori Claudia, dalla stanza da letto, perché non la sopportiamo più, in quella culla, anche perché adesso è diventata, non vi voglio far vedere la sua faccia, però, guardate quanto è grande, c'è altissima, guardate quante, vabbè che magra, ok, è alta, ora a marzo fa sette anni, e quindi ce la vogliamo smammare, dalla stanza da letto, quindi dobbiamo comprare un bel letto a castello, nella stanza insieme a Cristina, e poi il frigorifero, perché il mio frigorifero, ora non so, io lo apro, ma anche perché sapete che io sono spontanea, quindi se è disordinato, se è sporco, fregatevene, guardate le macchiazze, guardate le ditate, io li ammazzo, li ammazzo a tutti, vabbè dai, non faccio brutta figura, è abbastanza ordinato, soltanto quelli là che ormai, cioè non si riescono neanche più a pulire i contenitori, perché ormai purtroppo, le guarnizioni si sono rovinate, quindi non si chiude neanche più bene, continua a scorrere, dico che si è rotto lì sotto, quindi il mobile comunque, quindi a breve, non si chiude neanche, vedete che fa opposizione qui, vedete che fa questo rumore, purtroppo, infatti se vedere qui c'è un po' di spazio, non si riesce a chiudere bene, quindi in previsione sono quasi, adesso farà il, ah un altro giorno, il 15 ottobre che noi abbiamo comprato, abbiamo iniziato ad utilizzarlo verso il 20 di ottobre, quindi domani farà 7 anni il frigorifero, devo dire che alla fine è durato abbastanza, quindi questo a breve andrà via, non so se è questo mese o il prossimo, forse è di più il prossimo novembre, quindi dal prossimo mese poi vi farò vedere tutte le novità in casa mia, spero, anche perché cambiare delle cose in casa comunque fa stare bene, io lo penso così, comunque, intanto sistemiamo anche qua, questa è la tovaglietta troppo carina che io posiziono qui, sul piano cottura sopra al coprifornelli, e devo cercare il suo, perché qui c'è ancora questo, che ce l'ho dato tanto tempo, e c'è anche questo qua uguale, quindi lo devo cercare, non mi ricordo dov'è, comunque quindi a breve andrà via il frigorifero, e ovviamente non posso comprare anche il, un divano nuovo che non ha neanche un anno, quindi ovviamente, e poi dovremo comprare se Dio vuole, anche tutti i lampadari nuovi, che noi avevamo comprato all'Ikea, sempre 7 anni fa, ma essendo plastificati bianchi, io ora non ve li vorrei far vedere, aspettate vi metto una mano qui, sono indecenti, e che magari uno da lontano non lo vede, ma credetemi, questi sono quelli del salone, poi c'è quella a palla che ho in camera da letto, sono ovviamente essendo di plastica, hanno cambiato colore, sono diventati neri, purpulendoli, comunque sono diventati grigi, quindi al più presto andremo all'Ikea, dove avevamo anche preso quelli, che è il posto dove ci sono più economici, buonanotte, che con una trentina di euro, l'uno li compriamo, quindi cambieremo sicuramente, questi qui due del salone, e quelli della camera da letto, questi sicuro, poi un altro prodotto che volevo farvi vedere, che sto utilizzando, l'ho trovato sabato sempre da Bernava, che non l'avevo mai visto, vi ricordate che tempo fa vi avevo fatto vedere i profumatori, per l'armadio, e forse anche uno a bastoncini di Adi Trend, bene, ho trovato quest'acqua profumata, in realtà sarebbe acqua da stiro, al talco, che sapete che mi piace tantissimo, ma io la utilizzo ovviamente come deodorante per i tessuti, perché sapete che io odoro spruzzare i deodoranti per tessuti, perché al momento non ne avevo più, ero proprio accorto, avevo soltanto l'ultimo, quello che sto utilizzando, però quello costa tanto, quindi volevo centellinarlo, giusto per alcune occasioni, quello della linea più pulito, alla rosa, rosa e spezie, ovviamente non volevo utilizzarlo quello tutti i giorni, quindi a quel punto sabato, ero lì, ho detto sabato, forse un altro giorno, non so martedì, ho trovato questo, di ad trend, è veramente buono, fa un bel profumo, e il profumo è molto persistente, anche se è delicato e persistente, ripeto, in realtà è un'acqua da stiro, mi sembra che l'ho pagato 3,50 euro, adesso non ricordo, sì, ma purtroppo i profumatori per tessuto costano tanto, oggi volevo andare a un altro negozio di detersivi, si chiama la casa del detersivo, dove hanno moltissimi profumatori, tra cui quello di Rio Casa Mia, quindi volevo andare a fare un po' di scorta, vediamo se ci arrivo, perché ogni sabato dico, vado qua, vado là, vado lì, vado giù, dove c'è Kevin, sì, la sua compagna, accanto c'è un altro negozio, dei genitori della sua compagnetta, c'è questo negozio, la casa del detersivo, però io l'ho comprata in un altro, sempre di questo gruppo, la casa del detersivo sul viare della libertà, ma credo che comunque, essendo lo stesso negozio, degli stessi proprietari, troverò le stesse cose, comunque, spero di sì, per non perdere tempo, perché ogni sabato dico, vado qua, vado là, poi alla fine facciamo un giro in centro, passano due ore, e non arrivo a fare nulla, dovrei andare anche a comprare le pizze per stasera, per domani è uscito il pollo, dal freezer, quindi domani mangeremo pollo con le patate, domani che è domenica, di primo non so ancora cosa faremo domani, oggi invece, devo andare a comprare le pizze per stasera, a pranzo non so, faremo qualche frittata, qualcosa di veloce, perché non c'ho voglia oggi, e niente, va bene, quest'altro prodotto che vi volevo dire, che mi sta piacendo tanto, che adesso andiamo a portarlo in camera da letto, adesso andiamo in camera da letto, dove troverete ovviamente un po' di risordine, perché comunque essendo sabato, devo cambiare le lenzuola, ecco qua, qua ho già preparato altri prodotti, quelli per spolverare, che sono il solito mangiapolvere, questa volta sto utilizzando questo, con questa profumazione, vanigliette bianco, che mi piace molto di più, rispetto a quello rosa, e poi il Dexel, questo qui in molti superfici, li utilizzo per i vetri, per ad esempio il Komoke, laccato lucido bianco, e poi mi sono portata questo, perché qui già l'ho spruzzato, vedete, ho già tolto le lenzuola sporche, l'ha il letto di Claudia, vedete dove dorme, dove dorme Claudia, nella culla, quindi giustamente non ce la vogliamo, sbammare al più presto, quindi lì ho tolto un attimino la coperta, per far prendere un po' d'aria, vi faccio vedere il casino del mio balcone, eccolo lì, vedete, mamma mia che cosa è risortitata, aiuto, vedete la lavatrice in movimento, tutti i retersivi ovviamente le da lavatrice, ma lì non ci vado, perché c'è anche un po' di polvere, facciamo una figura oscena, vabbè, quindi vabbè, la vedete ho usato già le tende, questo qua è il famoso lampadario, non vi voglio far vedere, questo qua è il lampadario dell'Ikea, della camera da letto, vedere sempre come stile quello, ma credetemi è terribile, non si riesce più a pulire, un'altra cosa che vorrò comprarmi al più presto, quando Claudia, quando elimineremo la culla di Claudia, vedere che io non ho l'armadio in camera da letto, perché avevamo quello e il mobiletto di Claudia, quello lo terrò comunque, vedrò di trovare un'altra postazione in casa, o in salone dove c'è il tavolo, che magari c'è una bella nicchia, un bello spazio, oppure lo porterò fuori, comunque terremo delle cose, finalmente spero di potermi comprare l'armadio, quindi lì se Dio vuole un giorno ci sarà l'armadio, un'altra cosa che vorrei di comprarmi è il letto, perché no, la cabina armadio ci vuole una stanza, un armadio normale, non ho da tante pretese, non sono una donna delle tante pretese, un'altra cosa che vorrei comprarmi, perché sempre sullo stesso stile del divano che avevamo prima, il letto, perché guardate come si è combinata la testiera, purtroppo, di ecopelle, vedete, si è tolta qui, noi avevamo il divano tutto così, precisamente sempre bianco con l'asceso long, e quindi purtroppo fanno questa fine, terribile, però vedete, sono tutto nel lato di Giampi, dal mio lato è quasi perfetto, vedete, è perché, boh, questa forse è la parte in cui ci appoggiamo di più il pomeriggio, se mi metto sul letto per guardare la televisione, mi metto da questo lato, quello è il mio lato, vedete che è abbastanza meno rovinato, certo è un po' già, si è ingiallito con la luce, anche se l'ho pulito con tutti i tipi di sgrassatore, tutto purtroppo poi va comunque a sette anni il letto, quindi è ben sfruttato, questo, vabbè, devo cambiare le lenzuole, poi Claudietta, amore, non so, ah, Claudietta si è vista, no, levati amore, levati, vabbè, sono vestiti estivo perché ci sono tipo 32 gradi, sto crepando, vabbè, niente, vi tolgo la mia visuale, e qui abbiamo tolto, amore, stai dietro per un secondo, allora, cosa? Ora lo prendiamo il fiocco di bello, dai perché mi restano soltanto tre minuti di registrazione, e allora qui c'è ancora, io lo sto tenendo ancora il ventilatore, però l'ho tolto dal comò per avere lo spazio, ci ho messo sotto questo puff per adesso, e ho dato una sistemata al mio comò perché non potevo più vederlo in quel modo, ora vi giro così, vedete meglio, vedete così, ho rimesso praticamente, le cose che c'erano qui dove prima c'era il ventilatore, vedete i trucchi, vabbè, le cose alla fine come postazione sono sempre quelle, però ho rimesso, ho rifatto la parte sinistra che era occupata dal ventilatore, e ho uscito la mia Instax Mini, perché ce l'avevamo nel mobile, non aveva senso chiusare il cassetto, anche perché non l'abbiamo utilizzata per nulla, e poi non scatta, dobbiamo cambiare, ricordami dopo di mettere batterie nuove, e domenica siamo state allo street food, volevamo scattare qualche polaroid, ma purtroppo c'erano le batterie scariche, comunque la terrò esposta qui, qui ho messo il profumatore a bastoncini di Yankee Candle, profumazione Pink Sand, che mi ha regalato la mia amica Olga per il mio onomastico, poi qui ho uscito questi prodotti, un tempo fa sono andato alla Sephora, e ho comprato, aspetta amore, perché poi mi resta poco tempo, ho comprato questo mini correttore, il nuovo correttore della Benefit, il Boeing, il nuovo Boeing, l'ho preso nella Mini Size per provarlo, il bello di Sephora è che è della Benefit, che fanno queste Mini Size, che uno magari può provare, questo, è uscito anche questo qui, era il fondotinta, e lo è happy, ragazzi mi resta un minuto soltanto, quindi vi faccio vedere velocemente, un altro prodotto che ho comprato, ma ancora non l'ho utilizzato, quindi non so cosa dirvi ancora, perché c'è un caldo pazzesco a Messina, sì amore, e quindi ancora non l'ho utilizzato, ho comprato il nuovo fondotinta di Kiko, a Limited Foundation, quando lo utilizzerò almeno 3-4 volte, e vi farò sapere, va benissimo, allora, il tempo sta finendo, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, anche se è breve, con poche cose, insomma, vi ripeto, non ho comprato nulla, non ho fatto nulla di particolare, la mia vita è molto normale, come vedete, e va bene, vi saluto, e ci vediamo al prossimo video, tanti commenti, tanti mi piace, per favore, che mi state abbandonando, ciao, a me,